Come lei saprà, da oggi entra in vigore il nuovo redditometro e comprende anche il caffè. L'agenzia delle entrate farà degli accertamenti anche in base al numero dei caffè bevuti ogni giorno. Più uno ne beve, più sarà sospettato. L'hai d'accordo? No. Sì, tanto io non ne bevo neanche uno. E allora, me che bevo 10 caffè al giorno, cosa mi faranno? A questo punto il caffè metterà ansia di più di quello che già metterà le persone. Lei quanti caffè beve al giorno? 5, 6 caffè al giorno. Ecco, quindi lei sarà sospettato di evasione? Sicuramente. Come farà? Me lo farò a casa. Non bevo caffè. Quindi lei è a posto? Sì, io bevo solo te. Come faranno a controllare quanti caffè berranno gli italiani? Ecco, questa è una bella domanda, cioè che io purtroppo non so come rispondere. Ci metteranno il contacaffè in corpo? Come faranno a controllare quanti caffè beviamo ogni giorno? Si vede che lo metteranno nella tazzina. Cosa? Redditometro. Beviamo anche quello lì.